Tra Hong Kong e Sumatra è sicuramente una parte molto pericolosa per una barca come Maserati. Le prime 2000 miglia bisogna stare molto molto attenti. Maserati, Maserati, just to confirm, your start time, 10.43.24 U2C time, over. Questa è la punta di Jakarta. Oceano indiano del sud, truas su Camp Town facciamo più di 39 anni. Questa notte sempre sopra i 39 anni, una meraviglia. Siamo arrivati tra i 38 e i 39 anni. E' merplante, è merplante. E' merplante. Il giorno dopo 10 minuti. Abbiamo sentito un rumoraccio brutto. Siamo saltati fuori subito a controllare. Abbiamo perso il timone di destra. Per fortuna abbiamo un timone di ricambio che abbiamo a bordo con noi. Per cui aspettiamo la transizione delle prossime ore in cui avremo una donzina di ore con poco vento per poter installare il timone nuovo. E' veramente un godere timonale Maserati che si ingetta giù da queste onde a 30 rodi e più. In fondo siamo venuti qua per questo. Abbiamo deciso di fare questa rotta molto est che ci permette di navigare in rampa molto vicino alla costa dell'Africa. 21 giorni, 23 ore e qualche minuto per arrivare all'equatore. Sembra un ottimo tempo. Siamo per passare all'equatore. Ci siamo. Emisfero Nord. E poco a poco rimontiamo al nostro obiettivo che è Londres. 25-30 nodi di vento che vuol dire che sul ponte ce ne è almeno 40. E fa un bel freschetto. più che altro è una bellissima avventura, un bellissimo viaggio, una bellissima navigazione, un bel equipaggio. La barca ottima. Insomma tutto benissimo direi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.